di Lezioni d'Europa, appuntamento che è dedicato ad un focus sulla politica di integrazione, in particolare oggi parleremo di Brexit e dei prossimi allargamenti dell'Unione Europea e quale canzone poteva essere più idonea e indicata se non quella che abbiamo ascoltato di Sting, Englishman in New York, grazie alla collega Claudia Salvi per questa ottima scelta. Io sono Elisabetta Lucertini, sono la coordinatrice del Centro Europe Direct Emilia-Romagna, ospitato presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, appunto, e oggi sono molto contenta di essere qui e di poter contribuire alla realizzazione di questo ciclo di webinar che appunto è dedicato all'Europa. Ringrazio per l'invito il professor Pasquinucci dell'Università di Siena, la dottoressa Claudia Salvi del Centro Europe Direct Roma Innovazione, che coordina appunto in maniera magistrale, come avete potuto già capire, l'organizzazione di questo progetto, che è promosso dall'Università di Siena, realizzato dal Formez, con la collaborazione di alcuni centri che appartengono alla rete Europe Direct, che sono sul territorio nazionale. In particolare desidero ringraziare i colleghi del Centro dell'Università di Siena, di Roma Innovazione, dell'Università di Chieti, della provincia di Verona, del Consorzio Universitario di Trapani Sicilia e ancora Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, Europe Direct Molise e Europe Direct Lombardia. Questa edizione di elezioni d'Europa è la quindicesima edizione ed è un'edizione per noi particolarmente significativa perché si svolge alla vigilia delle elezioni del Parlamento europeo, che come saprete si terranno in tutti i paesi dell'Unione dal 6 al 9 giugno e in Italia dall'8 e il 9 giugno. È un appuntamento elettorale particolarmente importante per la nostra democrazia ed è per questo che abbiamo voluto, grazie appunto all'intuizione del professor Pasquinucci e del Formez, mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini questo momento di confronto con degli esperti che ci aiuteranno a capire e ad approfondire alcuni dei temi più rilevanti per il futuro della nostra Europa. I temi che sono stati affrontati e che affronteremo sono numerosi e trattano delle opportunità di finanziamento, della strategia del Green Deal, delle sfide dell'intelligenza artificiale, di partecipazione e di democrazia. Sono momenti di approfondimento e quindi veramente un'opportunità per essere più informati e maggiormente consapevoli in vista del prossimo appuntamento elettorale. Tutti i webinar sono registrati, per cui sono disponibili sulla piattaforma del Formez, da cui è possibile avere successivamente anche richiedere l'attestato di partecipazione. Vi ricordo e condivido la locandina del ciclo per ricordarvi appunto il prossimo appuntamento che sarà il 21 di marzo e farà parte del terzo modulo del ciclo di webinar che è dedicato appunto alla doppia transizione verde digitale, Green Deal, intelligenza artificiale e le loro concrete applicazioni. Il 21 di marzo dalle 10 alle 11.30 si parlerà di allarme e siccità e l'azione dell'Unione Europea contro la crisi idrica. L'incontro di oggi è dedicato alla Brexit e ai prossimi allargamenti dell'Unione Europea e ne parleremo con due esperti che sono con noi e quindi ringraziamo per la loro disponibilità che sono il professor Mark Gilbert che ci parlerà appunto della Brexit e la dottoressa Ines Pritch che invece approfondirà successivamente il tema dell'allargamento. Il professor Mark Gilbert, brevissima introduzione, è professore presso la John Hopkins University, sede di Bologna, dove è titolare della cattedra C. Grove Ains e precedentemente è stato professore di storia contemporanea e studi internazionali all'Università di Trento e docente di studi europei all'Università di Bath. Ha pubblicato molti libri e saggi sulla storia d'Italia, sulla storia della guerra fredda e sulla storia dell'integrazione europea e attualmente ha in corso di pubblicazione un volume intitolato Italy Reborn from Fascism to Democracy. La dottoressa Pritch invece che interverrà successivamente sulla politica dell'allargamento dell'Unione Europea lavora dal 2021 come policy officer presso il direttorato generale per la politica di vicenato e negoziati di allargamento, quella che viene chiamata la diginia della Commissione Europea e nell'unità che coordina proprio la politica di allargamento e la strategia regionale per i Balcani occidentali. Ha lavorato precedentemente presso il servizio europeo per l'azione esterna, ha conseguito un master in economia dello sviluppo all'Università di Firenze e una laurea triennale in sviluppo e cooperazione internazionale all'Università di Bologna. Io ringrazio i nostri relatori per la loro cortese disponibilità, inizierei il nostro webinar dando la parola al professor Mark Gilbert che ci introdurrà, ci spiegherà la situazione che sta vivendo il Regno Unito dopo l'uscita della Brexit e in particolare quali sono le ragioni che hanno indotto la maggioranza dei cittadini britannici ad abbandonare il progetto europeo e le conseguenze che questa scelta ha avuto e sta avendo. Prego professore, grazie. Allora, grazie Elisabetta. Ecco, sono le parole di un Englishman in England attualmente. sto parlando dalla casa dei miei vicino a Cambridge. Cercherò di essere il più breve possibile perché voglio soffermarmi su quattro punti chiavi per quanto riguarda i rapporti tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. E soprattutto voglio concentrare i miei commenti sulle conseguenze economico-politiche del Brexit. E partiamo appunto con la ricaduta economica. C'è una ricaduta economica, le conseguenze economiche sono state serie, ma forse meno disastrose del previsto. l'economia è cresciuta, meno di quello che ci si poteva aspettare se la Gran Bretagna fosse rimasta nella comunità europea. Però il commercio con l'Unione Europea, nonostante qualche problema in qualche campo, è rimasto tutto sommato stabile. Non c'è stato il tracollo economico di cui molti commentatori parlavano. Allora, tutto bene? No, non tutto bene. Perché anche se le conseguenze economiche non sono state tremende, non sono state pesanti, c'è stata sicuramente una ricaduta sulle finanze pubbliche. Perché avendo meno introiti, il governo della Brexit, il governo conservatore che ha vinto le elezioni nel dicembre del 2019, ha avuto due alternative in questo Parlamento. Uno, aumentare le tasse per far fronte ai costi dello Stato, pur avendo meno crescita economica. Oppure cercare la crescita tagliando le tasse. E questa è stata, infatti, la politica seguita dal governo di Liz Trust, che ha approvato questa strategia rischiosa. I mercati finanziari hanno temuto una specie di deriva greca o italiana per conti pubblici. C'è stata la ribellione dei mercati e la Gran Bretagna ha sperimentato una situazione in cui il potere politico è stato in un certo senso travolto dalle reazioni dei mercati. Il governo di Liz Trust è durato non soltanto 49 giorni. Quindi la mancata crescita, che sicuramente è in gran parte dovuta alla Brexit, ha portato a un aumento di tasse da parte del governo conservatore. E questo semplicemente non era prospettato dai sostenitori della Brexit nel 2016. Anzi, il contrario. La Brexit avrebbe portato ad una nuova epoca di prosperità e di crescita economica, secondo loro. Questo non è avvenuto. Un'altra cosa che è interessante è che la migrazione è in forte aumento. Come sapete, uno dei vanti principali del Brexit durante il referendum è stato che la Gran Bretagna avrebbe ripreso controllo, fra virgolette, dei propri confini, avrebbe potuto ridurre l'immigrazione e soprattutto l'immigrazione europea. Invece, dopo la Brexit, la Gran Bretagna, che obiettivamente non ha problemi, almeno con l'occupazione, si è trovato con un mercato di lavoro tight, cioè ristretto. C'è una mancanza di lavoratori, anche perché c'è stato un calo notevole nel numero degli europei che vengono a vivere in Gran Bretagna. Risultato? C'è stato un aumento nei numeri che sono venuti da paesi terzi, se vogliamo. E anche questo vuol dire che le promesse, diciamo, del referendum del 2016 non sono state mantenute. Conclusione. Conclusioni sulle ricadute economiche. qual è? Bene, allora, il disastro annunciato e anche esagerato da tanti cronisti non è successo. L'economia resta abbastanza dinamica, pur avendo molti problemi di infrastruttura, pur avendo molti problemi con lo stato sociale, ma comunque tutto sommato l'economia tira. Però, dei trionfi previsti dal governo di Brexit, dai vari Boris Johnson e i principali Brexit, non ci sono tratti. E le tasse, nel frattempo, sono aumentate. Allora, questo mi porta al secondo punto. le conseguenze politiche della Brexit. Perché ciò che abbiamo visto negli ultimi quattro anni non è altro che un crollo nei sondaggi, ma non soltanto nei sondaggi, anche nelle elezioni supplementari al Parlamento, del Partito Conservatore, cioè al partito che ci ha portato la Brexit. Attualmente il Partito Conservatore sta viaggiando intorno al 20%, 25% nei sondaggi. Ci sono addirittura alcuni che indicano il Partito Conservatore intorno al 20%, per dare un'idea storica, per dare un'idea di cosa significa questo nel contesto storico. Perché il Partito Conservatore è sempre stato il partito di governo in Gran Bretagna, vuol dire che sono i minimi storici. Il Partito Conservatore mai ha avuto numeri così bassi, se non durante il 2019, quando il Partito Conservatore nelle elezioni europee del 2019 ha preso soltanto l'8,3%, che è stato un po' un referendum sulla Brexit. Allora, cosa significa questo? Significa che quasi sicuramente la Gran Bretagna avrà un governo laborista nei prossimi 12 mesi. Però il Partito Laborista è favorevole alla Brexit. Se c'è un punto fisso nella politica del Partito Laborista, e non ce ne sono tanti sicuramente, è che il Partito Laborista sia impegnato a mantenere, a rispettare la volontà del popolo nel referendum del 2016. Perché questo? Perché il Partito Laborista continua a sostenere la politica di Brexit, nonostante che i risultati economici siano stati sicuramente inferiori alle prospettive. Semplicemente è perché la Brexit rimane abbastanza popolare. bisogna sottolineare questo. Ci sono. Sicuramente dovessimo rivoltare, dovessimo ripetere il referendum del 2016, penso che senza un ombra di dubbio vincerebbe il voto no. La Gran Bretagna resterebbe dentro l'Unione Europea. Però questa non è la questione importante per i politici britannici attuali. Loro hanno a che fare con un elettorato dove un terzo, almeno dell'elettorato, attualmente continua a pensare che la Brexit sia stata la scelta giusta. Un terzo. Sono persone che vanno a votare. Una qualsiasi decisione da parte di un eventuale governo di chi è stame, il partito laborista, potrebbe soltanto riaprire la questione della Brexit, che è stata senza l'ombre di dubbio l'argomento politico più divisivo della storia contemporanea britannica. Bisogna tornare all'appeasement o alla crisi di Suez o all'Irlanda, tra le due guerre, per trovare un altro argomento che ha diviso la società, che ha acceso le tensioni politiche come la Brexit. E di conseguenza nessun governo britannico vuole riaprire il capitolo Unione Europea. Nessun governo immaginabile, mettiamolo così, vuole aprire un nuovo capitolo nella saga della Brexit. E questo anche perché si sa perfettamente che se la Gran Bretagna dovesse cercare di tornare in Europa, a riaprire il negoziato per entrare in Europa, allora non potrebbe mai rientrare con tutte le deroghe che aveva prima. E ancora oggi, se la Gran Bretagna dovesse fare, facciamo un'ipotesi, se un governo laborista nel 2026-2027 decidesse di cercare di tornare in Europa e se l'Unione Europea dicesse, beh, va benissimo, ma bisogna accettare l'euro, bisogna accettare tutta una serie di altre cose, senza un ombra di dubbi. Questo non avrebbe il sostegno pubblico, ma ancora oggi. E dunque, penso sia inimmaginabile un rientro britannico a breve scadenza. Quando faccio dei convegni in Italia qualcuno mi chiede sempre, ma quanto durerà l'assenza della Gran Bretagna, di avere bisogno della Gran Bretagna, del Regno Unito, all'interno della Comunità Europea e dell'Unione Europea, quanti sono le possibilità di un veloce rientro della Gran Bretagna in Europa? E la risposta a questa domanda, a scanso di equivoci, non ce ne sono. Penso che almeno due parlamenti devono passare e un sacco di cose imprevedibili devono succedere prima che la Gran Bretagna rientrerà in Europa. Quindi, questa è stata la conseguenza politica più importante della Brexit. La Gran Bretagna ha deciso, con tanta retorica, con i politici che dicevano molte stupidaggine, come la campagna per diventare Global Britain, che è una delle fesserie più grandi della storia contemporanea britannica. Però, obiettivamente, la Brexit ha segnato un momento storico nello sviluppo politico della Gran Bretagna, perché almeno per una generazione penso sia impossibile un rientro in Europa. Almeno, questa è la mia previsione. È anche vero che sono uno storico e gli storici preferiscono evitare le previsioni e quindi magari sbaglio. Ma comunque, visto l'argomento di oggi, penso che sia necessario fare questo commento. Allora, altri impatti, altre conseguenze politiche. Forse la conseguenza politica più importante all'interno del Paese è stata la trasformazione del Partito Conservatore. C'è stata una spirale ideologica all'interno del Partito Conservatore che si orienta sempre di più a destra. Il Partito Conservatore sta diventando sempre di più, assomiglia sempre di più al Partito Repubblicano negli Stati Uniti. È profondamente diviso, ideologicamente. Tra i conservatori più tradizionali, che ormai sono una sparuta minoranza, ma comunque hanno un certo peso, i conservatori tradizionali, che sono, se vogliamo, per usare una parola italiana, sono i democristiani, che sono comunque aperti a forti rapporti con l'Unione Europea e soprattutto che vogliono politiche sociali più centriste. e i conservatori più radicali, che è un'espressione ossimoronica, cioè è in assolutà parlare di conservatori radicali se ci si pensa, ma il Partito Conservatore in gran parte adesso è diviso tra varie fazioni che sono di destra, che seguono il modello americano. E questi gruppi vogliono in qualche motivo completare la Brexit. Non possono accettare ideologicamente che la Brexit è fallita, vogliono completare la Brexit in qualche modo. Però, fra di loro, sono divisi su tante questioni importanti. Risultato? Ecco, questa è la causa principale del crollo nei sondaggi del Partito Conservatore, perché hanno puntato tutto sulla Brexit. La Brexit, pur non essendo un disastro, si è rivelato fallimentare. Adesso, all'interno del partito, è scoppiata una discussione accesa, senza sconti per nessuno, su che fare. Io penso che nelle prossime elezioni, che saranno quasi sicuramente a ottobre, nelle prossime elezioni, i conservatori stanno rischiando veramente la sconfitta più pesante della loro storia. E se questo accade, cambierà sicuramente la geografia politica, se vogliamo, della politica britannica. Se c'è il tracollo del Partito Conservatore, potrebbe spuntare nuove formazioni di destra, che possono sostituire il Partito Conservatore. Molto tempo fa, negli anni 50 addirittura, c'era un libro famosissimo di storia di George Dangerfield, che si chiamava The Strange Death of Liberal Italy, che raccontava come il Partito Liberal sia scomparso negli anni 30-40, e cercava di spiegare le motivazioni per questa scomparsa di grande portata per la politica, è uno dei grandi paradossi della politica attuale britannica, è che il partito che ha puntato sulla Brexit, che ha dato la Brexit alla Gran Bretagna, adesso sta pagando i prezzi più alti della scelta. Allora, questo mi porta al punto terzo, alle conseguenze per l'Unione Europea e della Brexit. A me sembrano abbastanza trascurabili, di verità. Poco è cambiato, po' si spalla, ma secondo me poco è cambiato. L'Unione Europea resta, quel complesso meccanismo che conosciamo, rimane soprattutto intergovernativo, almeno per le grandi scelte. È vero che l'Unione Europea, da quando c'è stata la Brexit, ha fatto alcune scelte, la Green New Deal e il sostegno per l'Ucraina, importanti, ma sempre a livello intergovernativo. Grazie all'azione del Consiglio Europeo, devo dire. E chi sicuramente ha pensato, ah beh, assente l'ostacolo britannico, senza gli britannici che pongono ostacoli a qualsiasi salto in avanti del progetto europeo, sono rimasti delusi. Non abbiamo visto un nuovo ciclo di progressi nel campo, nell'Unione Europea. E vediamo appunto che, diciamo, che la Gran Bretagna è stata forse un po' la capra espiratoria, espiratoria della, della, della volontà mancante, ecco, a portare avanti il progetto europeo. Fra l'altro, è vero che noi siamo stati, la Gran Bretagna è stato il paese fondatore dell'euroscetticismo, ma l'euroscetticismo si è rafforzato un po' ovunque. La Gran Bretagna, da questo punto di vista, è eccezionale, soltanto nel senso che la Gran Bretagna è quella dove l'euroscetticismo è stato talmente forte che ci ha portato fuori dall'Unione. Se guardiamo in previsione delle elezioni di giugno, se noi guardiamo all'Europa, vediamo che la Brexit fa parte, la Brexit fa parte di un malessere più, più profondo, diciamo. L'europeismo ha sicuramente perso l'infa, ha perso slancio. Il nazionalismo, se vogliamo, è tornato di moda. La Gran Bretagna forse è stata, diciamo, all'avanguardia, ma ormai non siamo gli unici a guardare il progetto europeo con diffidenza. Questa è una grande sfida per il progetto europeo, una grande sfida per le istituzioni e della comunità, che bisogna, i partiti politici filoeuropeisti, devono assolutamente ritrovare un modo, trovare un modo per ridare all'Europa lo slancio di prima, dare, diciamo che la Gran Bretagna è sempre stato un paese nazionista, è sempre stato un paese con un forte senso di identità politica, una forte identità politica nazionale. e da noi sarebbe qua, non voglio abusare dei dettagli, potrei parlare per ore su questa questione, è su perché la Gran Bretagna si è ritirata, ha avuto questa involuzione, se vogliamo. Però una cosa è abbastanza certa, ormai l'Unione Europea ha, l'evoluzione dell'Unione Europea ha un certo impatto sulle società europee e questi impatti sono molto spesso positivi, per carità, ma possono anche innescare reazioni negative. La Gran Bretagna è semplicemente, guardando l'Unione Europea in quest'occhio, da questa prospettiva, semplicemente il paese dove le reazioni negative sono state più pesanti che altrove. Allora, punto quattro e ultimo punto, cosa possiamo fare? Visto che la Brexit non è stata un grande successo, visto che ha avuto conseguenze politiche enormi, visto che ci sarà quasi sicuramente un governo laborista più propenso a riallacciare i contatti con l'Europa, cosa possiamo fare per migliorare i rapporti tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea nei prossimi 5-6 anni? Penso che i prossimi due governi, mettiamolo così, perché è inutile fare previsioni decinali. Io credo che l'attuale politica seguita dal governo conservatore è molto criticata all'interno del partito conservatore proprio per questo, è quello giusto. E quasi sicuramente ci sarà la continuità se arriva un governo laborista. E cioè, contrastare gli effetti negativi della separazione, fare sì che i legami commerciali e culturali restino forti e che i tanti problemi creati nel mercato unico, ad esempio, per gli esportatori europei in Gran Bretagna ma per gli esportatori britannici in Europa, vengano in qualche modo smussati, piccoli ritocchi, un lavoro costante di monitoraggio alle conseguenze dell'uscita della Brexit, cercando in qualche modo di migliorare tecnicamente le conseguenze economiche e politiche della separazione. È una risposta tecnica. E anche per questo motivo che ad esempio tanti politici nel partito conservatore si ribellano a questa fine della Brexit che finisce con un accordo economico in sostanza con l'Unione Europea in cui gran parte del tempo è dedicato a come migliorare questa separazione. Loro volevano un divorzio, no? Si sono trovati con una separazione tutto sommato una separazione complicata in cui i partner continuano a vedersi. bisogna avere pazienza i rapporti sono quelli che sono bisogna avere pazienza bisogna cercare di non trasformare in Gran Bretagna adesso sto parlando soprattutto di Gran Bretagna perché in Gran Bretagna la Brexit rimane ancora un oggetto politico di grande importanza mentre stando a quelle che vedo io in molti paesi dell'Unione Europea la gente ormai non si ricorda quasi più della Brexit per i britannici resta ancora una questione di grande importanza e da parte nostra bisogna avere un governo e avremo sicuramente un governo quello del partito lavorista che cercherà di migliorare i rapporti nel modo migliore possibile e poi cosa può fare l'Unione Europea? potrebbe fare un gesto per dare un senso per dare agli inglesi ai britannici che continuano a sostenere il progetto europeo e forse è ovvio che mi scrivo tra quelli è possibile immaginare un gesto che potrebbe migliorare i rapporti secondo me c'è una e sarebbe quella di dare la cittadinanza europea ai cittadini britannici che vivono in Europa che pagano le tasse e si sentono fieramente europei io mi identifico con questa posizione e sarebbe un gesto l'idea di avere non so una specie di green card come fanno gli Stati Uniti che dà ai cittadini britannici che vivono in Europa regolarmente chiaramente dopo un soggiorno di alcuni anni secondo me manderebbe un segnale non trascurabile alla politica britannica grazie mille grazie professore per questa analisi piena di informazioni di spunti di riflessione che hanno già sollecitato i partecipanti al webinar a porre delle domande che però io terrei alla fine dando adesso la parola alla dottoressa Pritch continuerei quindi con la relazione sull'allargamento ai Balcani occidentali dell'Unione Europea partendo dottoressa dalle modalità del processo di adesione degli stati dei nuovi possibili stati membri dell'Unione Europea e appunto dall'accordo che è stato concluso in seno al Consiglio Europeo a dicembre che ha aperto appunto ai negoziati di adesione con l'Ucraina alla Repubblica di La Moldova la concessione di status di candidato alla Georgia il sostegno pieno e inequivocabile all'integrazione dei Balcani insomma quindi c'è una piena apertura dal processo di allargamento quindi a proseguire con il progetto europeo qual è lo stato dell'arte cosa ci dobbiamo aspettare prego grazie dottoressa grazie a lei buongiorno a tutte e a tutti grazie ancora per l'invito giusto un secondo per condividere il mio schermo eccoci qui spero che si veda la mia presentazione prima di iniziare un paio di parole forse su per ringraziare il professor Gilbert e per dire che sono se si dovesse un giorno discutere e votare di questa green card europea cittadinanza europea per per i cittadini del Regno Unito che vivono che vivono in Europa e che credono al progetto europeo sarei sicuramente segnataria e soprattutto ho avuto l'opportunità il piacere di conoscere lavorando qui a Bruxelles tanti colleghi pre Brexit e ho visto insomma come hanno vissuto con profondo rammarico e problemi anche amministrativi poi questa l'uscita dall'Unione e devo dire che erano profondamente convinti del progetto europeo quindi sicuramente ci sono ci sono persone che lo hanno vissuto in maniera molto molto forte quindi volevo giusto collegarmi a quanto detto e anche quando il professore ha parlato di come è stato vissuto anche in Europa tutto questo processo mi sono trovata molto d'accordo quindi grazie ancora per gli spunti di riflessione spero ci sarà tempo dopo per un po' approfondire se avrete delle domande ecco da parte mia vorrei vorrei cominciare ringraziando di nuovo per l'invito io vorrei discutere dell'allargamento dell'Unione europea ma soprattutto cercherei di concentrarmi sulle implicazioni per il nostro futuro comune vorrei sottolineare il comune perché se si parla di allargamento si parla di un progetto che riguarda tutte e tutti dunque scusate per le per le slide in inglese non ho avuto tempo di tradurle ma così avete un senso anche un po' di come si lavora a Bruxelles ci sono colleghi da tutti i paesi e quindi usiamo l'inglese come lingua comune partirei da questa slide quindi dallo state of play da una overview questo perché per presentarvi un po' la situazione quindi ad oggi ci sono dieci cosiddetti enlargement partners o paesi dell'allargamento che sono in diverse fasi del loro percorso verso l'Unione poi cercheremo di approfondire però giusto per darvi un'idea abbiamo sei paesi dei Balcani occidentali abbiamo la Turchia e poi abbiamo quello che chiamiamo informalmente ma che ormai è diventato di uso abbastanza comune il trio quindi i nuovi paesi ad est Ucraina Moldavia e Georgia ma come siamo arrivati fin qua è necessario partire anche da cosa intendiamo per politica di allargamento io cercherò di darvi degli elementi generali senza entrare troppo nei dettagli tecnici un brevissimo discorso storico per poter affrontare arrivare un po' più preparati al punto della discussione di oggi che è quale potrebbe essere il futuro dell'Unione e dei suoi possibili aggiungerei probabili allargamenti quindi andando avanti con le slide un po' di legal basis come si dice ma è davvero per dare un'infarinata senza andare troppo nel dettaglio l'allargamento è il processo attraverso il quale gli stati entrano a far parte dell'Unione Europea dopo aver soddisfatto una serie di condizioni politiche ed economiche il processo incoraggia le riforme democratiche ed economiche nei paesi che vogliono diventare membri e di conseguenza promuove una maggiore stabilità e prosperità in Europa quindi anche per noi i criteri di adesione che noi chiamiamo criteri di copenhagen dal nome del consiglio europeo che li definì abbiamo festeggiato l'anno scorso i 30 anni da copenhagen quindi c'è stata molta riflessione anche su questo e sono le condizioni essenziali che tutti questi paesi candidati devono soddisfare per diventare uno stato membro quindi abbiamo velocemente i criteri politici per criteri politici intendiamo la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia lo stato di diritto quello che chiamiamo qui rule of law i diritti umani e rispetto alla tutela delle minoranze e questi vengono definiti da quando abbiamo introdotto una nuova metodologia introdotta da questa commissione i fondamentali i fondamentali i fondamentals che vedremo poi hanno un ruolo rilevante per tutto il processo abbiamo poi i criteri economici cioè un'economia di mercato funzionante la capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze di mercato una capacità amministrativa perché la macchina deve reggere insomma e quindi per attuare efficacemente la chi dell'Unione Europea la chi è una a chi europeo intendiamo proprio tutto il corpo delle leggi e delle direttive europee e quindi la capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'essere membro dell'Unione Europea ultimo punto la capacità dell'Unione Europea di accogliere nuovi membri pur mantenendo lo slancio dell'integrazione europea è anche una considerazione importante e questo è in Copenhagen e su questo punto torneremo perché oggi parliamo appunto del futuro e di futuri allargamenti brevemente vorrei nominare un po' le principali tappe verso l'audizione dell'Unione Europea e non è per essere troppo tecnica però proprio perché si parlava anche col professor Gilbert prima di disinformazione percezione comunicazione di come le cose vengono lette e percepite insisterò un po' su questi punti per far capire che il processo di allargamento cioè il processo di ogni adesione di ogni paese il percorso di questi paesi non è non è non è breve non è semplice anzi è lungo e complicato proprio perché è stato messo in atto per assicurarsi che i nuovi paesi siano pronti e che porteranno benefici per loro e per l'Unione Europea quindi giusto per darvi per darvi un'idea quindi le tappe davvero ho provato all'osso ecco quindi il paese presenta una domanda al consiglio quindi consiglio europeo degli stati membri e la la commissione presenta un parere eh su questa domanda ehm cosa che è successa nel più recente il caso più recente è quello del del trio come dicevamo prima eh quindi gli stati membri decidono l'unanimità quindi l'unanimità è un fattore importante su cui sono sicura che eh avete idea di quanto si dibatte anche di questa famosa unanimità ehm quindi decidono di concedere al paese lo stato di candidato una volta soddisfatte le condizioni eh stabilite per l'apertura di negoziati di adesione con un paese e questi negoziati vengono aperti con l'accordo di tutti gli stati membri la commissione poi propone un progetto di quadro negoziale quello che chiamiamo i negotiating framework come base per i colloqui e i negoziati di adesione iniziano formalmente una volta che gli stati membri concordano sul quadro nazionale quindi vedete come molte tappe durante i negoziati che si strutturano sulla base di capitoli della chi comunitari che poi sono raggruppati in sei gruppi che definiamo clusters questo dalla nuova metodologia ehm che è stata eh proposta e è avviata da questa commissione ehm tutti gli stati membri dell'Unione Europea devono concordare che tutti i requisiti siano soddisfatti in in ciascun caso ehm poi una volta conclusi i negoziati su tutti i cluster la commissione esprime il proprio parere sulla preparazione del paese diventare uno stato membro e sulla base di questo parere gli stati membri dell'Unione Europea decidono all'unanimità di chiudere il percorso negoziale e anche il Parlamento Europeo deve dare il suo consenso e l'ultima tappa finalmente tutti gli stati membri e il paese candidato firmano e ratificano un trattato di adesione che consente al paese di diventare a tutti gli effetti uno stato membro dell'Unione Europea ehm ogni anno ehm proprio per avere per continuare a seguire i progressi ehm e condividerli e condividerli pubblicamente ehm di come della state of play di come di come stanno andando i vari paesi che sono nel percorso di di adesione ehm la commissione pubblica il cosiddetto enlargement package ehm che chiamiamo può essere tradotto come pacchetto di allargamento che raccoglie dettagliati rapporti per ogni paese eh sono sono dei report su cui con i miei colleghi insomma eh la commissione lavora per per mesi e mesi eh confrontandosi con organizzazioni società civile UN quindi è davvero una un'analisi a tutto tondo ehm dove facciamo il punto della situazione dove possiamo come commissione anche ehm fornire delle raccomandazioni al consiglio ad esempio nel 2022 è stato consigliato raccomandato dalla commissione eh di concedere lo status di paese candidato alla Bosnia e d'Herzegovina e poi nel dicembre stesso anno è stato eh confermato giusto per darvi un'idea e il il pacchetto di allargamento eh come dicevo è dettagliato faccio vedere eh paese per paese e e insomma continua a crescere visto che abbiamo detto che abbiamo adesso dieci enlargement countries ehm eh giusto per dare come dicevo prima un piccolo scorso storico questo può essere una una slide interessante ehm in cui vediamo possiamo vedere tutti tutti gli allargamenti passati eh in cui ho inserito anche nel 2020 la perdita di uno di uno stato membro e non questo è per darmi un po' un'idea non c'è bisogno di entrare non mi metterò a elencare tutti tutte le varie date è molto molto chiaro credo eh quello che mi interessava con questa slide è farvi notare due cose ehm la la prima è eh si si vede anche visivamente per questo ho scelto anche di aggiungere un po' di 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 bandiere nel 2004 eh c'è stato quello che eh viene chiamato l'ultimo grande allargamento eh ci furono dieci stati che entrarono a far parte della dell'Unione ehm lo volevo far notare perché fu un momento storico è un momento in cui l'allargamento ha avuto un picco importante è un momento di ottimismo un momento di popolarità per la politica è innegabile e ed è un allargamento che segnava anche una nuova fase della storia europea basta guardare da dove venivano insomma dove si posizionano anche geograficamente questi questi paesi ehm perché eh la politica di allargamento che come cercato di dimostrarvi spero senza essere troppo eh dettagliata però è naturalmente un processo in cui eh basato sul merito in cui ci sono esami e riesami e riesami della 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 situazione ma è anche un processo che viene che succede in fasi storiche e quindi ne risente anche anche in quel senso e con questo mi vorrei corregare alla seconda cosa che vi voglio far notare di di questa slide cioè quando risale l'ultimo allargamento un mini allargamento è quando nel 2013 è entrato l'ultimo l'ultimo paese cioè la Croazia che tra l'altro ha festeggiato l'anno scorso il decennio da quando è entrata nell'Unione e questo questo decalage di di date quindi 2004 grande allargamento 2013 ultimo ci può anche far capire che non dopo il grande entusiasmo per l'allargamento c'è stata anche una fase in cui in realtà abbiamo visto il processo rallentare abbiamo visto anche nell'opinione pubblica avere più scetticismo quella che chiamiamo enlargement fatigue quindi fatica dell'allargamento che hanno caratterizzato in particolare quest'ultimo decennio ad esempio in cui nonostante i paesi del Balcani occidentali per esempio avanzavano anche se lentamente nei loro percorsi ognuno in ogni paese però non c'è stato nessun nuovo membro perché c'è quindi anche un ricordo tanti articoli e tanti libri sulla crisi dell'allargamento non ci sarà più un allargamento e quindi eravamo rimasti lì scusate questo diciamo che cambia perché con la guerra di aggressione della Russia in Ucraina del febbraio del 2022 quindi ormai due anni fa questa fase possiamo dire che è terminata perché la guerra ha cambiato il corso della storia europea non sono parole a caso abbiamo visto l'Unione Europea rispondere con forza e con unità che non era non era inizialmente dato per scontato ma è stata una risposta appunto unita e di forza e soprattutto c'è stato quello che potremmo chiamare uno shift cioè ci si è resi conto ok chi sono i nostri vicini chi sono i nostri alleati e quindi i Balcani occidentali e gli altri nell'Europa orientale sono diventati i nostri interlocutori i nostri partner perché quando si tratta di sicurezza naturalmente la geografia conta più che mai vorrei dire che si è creata una nuova consapevolezza cioè di affrontare è meglio affrontare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina insieme questo è stato esemplificato nello stesso anno dello scoppio della guerra nel 2022 pochi mesi dall'inizio di quell'aggressione abbiamo accolto abbiamo ricevuto le candidature di tre nuovi paesi che volevano entrare nell'Unione Europea quindi l'Ucraina il paese attaccato la Moldavia e la Georgia abbiamo assistito ad una improvvisa apertura a destra che non era fino a qualche mese prima non era in the numbers però abbiamo anche visto un nuovo impito verso i Balcani quindi per darvi un'idea di come dopo che c'era appunto c'era stata per anni un po' di rallentamento qualcuno di ristagnazione del processo o di allargamento della politica solo nel 2022 a tre nuovi paesi è stato conferito lo status di paese candidato quindi all'Ucraina la Moldavia la Bosnia e Herzegovina come abbiamo nominato prima un nuovo potenziale potential candidate potenziale candidato la Georgia abbiamo avviato abbiamo aperto i negoziati di adesione con Albania e Nord Macedonia che hanno finalmente fatto uno step forward nel loro processo e il Kosovo ha fatto ufficialmente domanda di adesione all'Unione Europea quindi la sfida ora è garantire che questo nuovo dinamismo sia mantenuto accompagnato da riforme in tutti i paesi dell'allargamento per poter appunto avanzare quindi tornando anche all'aspetto un po' di sicurezza perché è molto importante vorrei sottolinearlo perché appunto la politica di allargamento è diventata possiamo dire un sinonimo di investimento geostrategico per per la pace per la sicurezza e per la prosperità in Europa questo è è una ha sempre fatto parte di questa di questa politica ma diciamo che nella situazione attuale si è riaffermato con con forza questo nuovo impeto scusate controllo giusto il tempo questo nuovo impeto continua quindi non ci siamo solo fermati non è stata una una finestra di pochi mesi dopo dopo l'inizio della guerra abbiamo continuato a lavorare e i paesi soprattutto hanno continuato a lavorare impegnarsi nel novembre dell'anno scorso la la commissione nel suo pacchetto di allargamento quindi nella comunicazione che è stata presentata nell'autunno dell'anno scorso ha preparato per la prima volta per la prima volta dal dal allargamento dei rapporti su dieci paesi dell'allargamento e su questa basandosi sull'analisi ha fatto delle raccomandazioni al consiglio di avviare i negoziati con Ucraina e Moldavia quindi uno step successivo a quello di candidate country di concedere lo status di candidato alla Georgia fermo restando che verranno dotate le misure necessarie e di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia e Herzegovina annunciando che avrebbe riportato che avrebbe riportato il consiglio inizio dell'anno la raccomandazione confermando o meno la raccomandazione ed è successo proprio questa settimana insomma è notizia di martedì la Presidente von der Leyen in Parlamento ha annunciato che la commissione ufficialmente con un report che ha presentato che raccomanderà al consiglio di avviare i negoziati di adesione quindi il prossimo consiglio europeo che si terrà il 21 marzo dovrà decidere se cosa se confermare o meno questa raccomandazione però vorrei insistere anche su un altro punto quindi abbiamo parlato di nuovo impeto abbiamo parlato di nuovo interesse abbiamo parlato di nuovi paesi abbiamo parlato di decisioni storiche importanti prese però per riallacciarmi ai punti che bisogna agli step che bisogna seguire vorrei anche dire che l'allargamento è e continuerà ad essere un processo basato sul merito quindi il ritmo dei negoziati dipende dai progressi nelle riforme dei paesi dell'allargamento in particolare i progressi nell'area dei cluster uno che sono i fondamentali quelli che abbiamo già nominati perché perché in questi fondamentali si valuta temi fondamentali per i valori europei e per il funzionamento di uno stato quindi la democrazia la pubblica amministrazione lo stato di diritto la giustizia la lotta la corruzione e quindi sono tutti aspetti fondamentali perché i nostri partner dell'allargamento possano pianificare avanzare su queste rispettive riforme legate all'unione europea e al tipo di stato membro che appunto porterà beneficio al nuovo stato membro ma anche a quelli preesistenti un ultimo l'ultimo aspetto che volevo che volevo trattare è che diciamo che è un po' il il cuore della discussione quindi quello che ho detto finora un po' era un po' anche in preparazione per affrontare più preparati il dibattito che mi è stato proposto per questa sessione ma che è un dibattito vi assicuro estremamente attuale un dibattito che di cui si che qui nelle istituzioni europee ma anche negli stati membri e poi c'è tutto il corollario di organizzazioni think tank che dibattono su cosa potrebbe voler dire per i paesi e per l'unione un possibile allargamento quello che la presidente della commissione von der Leyen durante il suo stato dell'unione che avviene ogni settembre ha definito come una possibile futura europea 30 plus quindi a più di 30 stati membri quindi per i nuovi stati membri si tratta di godere delle ad esempio una cosa per renderlo anche un po' più pratico per i nuovi stati membri ci sono c'è la possibilità di godere delle quattro libertà quindi libera circolazione delle merci dei capitali dei servizi e delle persone quindi è un cambiamento importante di cui noi beneficiamo già si tratta di poter aumentare la loro prosperità la loro stabilità ma è anche un interesse da parte dell'unione perché l'allargamento del mercato unico aumenta la competitività rafforza il mercato aumenta il dinamismo la storia dell'allargamento dell'Unione Europea è una storia di successo che quindi ha giovato anche come immagine forza di partner commerciali a livello globale abbiamo già nominato l'investimento nella nostra sicurezza quindi non ci torno nuovamente e poi anche un un'opportunità è un'opportunità sia per paesi che aspirano che sono in fila per entrare ed è un'opportunità per noi quindi l'idea è davvero di ancorare l'allargamento nella nostra anche percezione e immaginazione a questo percorso di pace e di prosperità ultimo punto per continuare per concludere su questo dibattito cosa ne pensano gli stati membri di questi futuri allargamenti perché come potete immaginare lavorando in commissione nella nel direttorato generale che si occupa di allargamento abbiamo insomma sono circondata da grandi fan e lo sono anch'io dell'allargamento però noi dobbiamo sono sono i paesi membri che hanno un ruolo importante in questa politica l'abbiamo visto prima con con gli step questi membri devono confermare all'unanimità gli step in avanti diciamo che se ne sta come dicevo prima se ne sta discutendo molto non solo a livello di insomma persone eccetera ma proprio a livello istituzionale le varie le varie le varie dg i vari in parlamento in consiglio si se ne parla e in particolare su se ci dovesse essere un nuovo allargamento come ci come ci si prepara come ci si deve preparare dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare qualcosa all'interno dell'UE e come possiamo garantire di mantenere la stabilità come possiamo garantire tutta una come possiamo evitare degli shock ecco che potrebbero che potrebbero esserci dunque per quanto riguarda la governance quindi dell'UE come si come funziona si stanno si stanno si sta riflettendo si stanno esplorando tutte le possibilità che che sono offerte dall'attuale quadro dei trattati c'è stato un consiglio europeo speciale l'anno scorso a Granada a Granada perché c'era la presidenza spagnola in ottobre in cui i leader dell'Unione europea hanno affermato che con la prospettiva di un'unione ulteriormente allargata sia l'Unione europea che i futuri stati membri devono essere pronti con un chiaro richiamo sia agli sforzi di riforma degli aspiranti membri che all'Unione europea che deve porre le basi necessarie al proprio interno hanno inoltre concordato che l'Unione europea deve definire le proprie ambizioni e le modalità a lungo termine di raggiungerli e affrontare le questioni chiave relative alla priorità e alle politiche dell'Unione europea nonché a quelle dell'Unione europea alla sua capacità di agire con un più alto numero di stati membri e questo è un chiaro anche mandato per poi le istituzioni per lavorare sempre la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo Stato dell'Unione aveva tra l'altro già annunciato una serie di riflessioni di quelle che chiamiamo policy reviews cioè un'analisi o un esame del possibile impatto di un futuro allargamento su tutte le policy areas quindi le aree dell'Unione comune quindi colleghi di DG Agri capire che impatto potrebbe avere sulla PAC sulla politica agricola europea colleghi di Gisante per la salute insomma ci siamo divisi tutti il lavoro per poter presentare e dire questo potrebbe essere l'impatto e poi a Cote ci sono anche colleghi che si occupano dal punto di vista legale di quale potrebbe essere l'impatto anche sul funzionamento delle nostre istituzioni quindi a breve ci sarà una comunicazione su queste sui primi risultati di questi policy reviews quindi come capite questo è giusto per darvi un po' un flavor un po' il sapore di cosa si sta parlando e del fatto che sono che è un dibattito complicato perché con la presentazione di oggi ho cercato di farvi vedere un po' quanti innanzitutto per il numero del paese e per com'è il percorso di allargamento che non è semplice né lineare ma per ogni paese diverso quindi un dibattito complicato ma molto interessante che non riguarda solo questi stati questi paesi in fila in posizioni diverse ma riguarda tanto la nostra identità il nostro futuro come intendiamo l'Europa come vogliamo vedere l'Europa in 5 10 15 anni quindi vorrei lasciarvi con questo con un invito a seguire interessarvi a votare a giugno per le elezioni europee perché queste sono sono decisioni che impattano impatteranno le vite di tutti grazie grazie dottoressa Pritch lei con la sua relazione ha un po' anticipato la risposta ad alcune domande che nel frattempo sono arrivate in chat che riguardano appunto la diciamo così l'opportunità anche di procedere a un continuo allargamento senza pensare a delle riforme relativa all'architettura istituzionale dell'Unione Europea attraverso le riforme dei trattati l'abolizione del veto del voto di unanimità che bloccano appunto i processi decisionali e ci dobbiamo quindi aspettare se ho colto bene una comunicazione prossimamente su questi temi che darà un quadro della direzione che l'Unione Europea prenderà in vista appunto di questo futuro speriamo allargamento che promuove insomma i valori su cui si fonda comunque l'Unione Europea possiamo sapere più o meno quando prima delle lezioni ce lo dobbiamo aspettare non si sa non è ancora definito ok quello che posso dire è che appunto prima delle lezioni avremo più dati su il lavoro preparatorio che c'è stato finora quindi questa comunicazione in cui sicuramente si avrà un'idea di quello che i tecnici perché la commissione è fatta di persone tecniche che devono analizzare la situazione e poi come abbiamo detto il Consiglio Europeo che può dare invece la direzione politica che ascolta i tecnici e discute e conclusioni del Consiglio sono quelle che poi possono dare la direzione però stiamo parlando di appunto discussioni estremamente attuali e entro le lezioni europee avremo un'idea della direzione di quelli che sono i principali temi da affrontare questo questo lo posso dire ok la ringrazio perché insomma seguiamo insomma tutta la produzione degli atti insomma della commissione delle istituzioni quindi è una cosa che ci interessa capire appunto in che direzione si potrà andare grazie per il professor Mal Gilbert scusate la pronuncia un po' ci sono alcune domande in chat il tema è stato ovviamente estremamente interessante capire da dove si è partiti e la direzione insomma che il Regno Unito potrebbe o vorrebbe o non vorrebbe prendere infatti una delle domande è proprio un nostro partecipante chiede ma perché non è contemplata una possibilità di riaprire un negoziato con l'Unione Europea se l'opinione pubblica pare favorevole ad un ripensamento e poi il ruolo dei tabloidi inglesi nella diffusione dell'euroscetticismo quindi quanto ha influito la stampa sul risultato della Brexit e quali rapporti ci sono con la Scozia che in gran parte ha votato per rimanere nell'Unione Europea e infine l'ultima domanda come sono cambiati se sono cambiati i rapporti con gli Stati Uniti dopo la Brexit un quadro globale direi bene devo dire che chi mi ha ascoltato sicuramente stanno seguendo in modo molto intelligente il dibattito britannico perché sono dei punti di cui avrei dovuto parlare e che con visto che avevo 25 minuti non ho voluto parlare di alcuni di questi aspetti proprio perché sono cose così importanti che avrei potuto spendere un intervento intero soltanto su queste quattro questioni vado in ordine ma prima di rispondere a loro ringrazierei la dottoressa Priecz per il sostegno che mi ha dato credo sia molto importante questo perché io credo che l'Unione Europea senza altro è un sistema politico è un insieme di è un insieme di istituzioni è un progetto economico forse è un futuro stato federale ma forse questa prospettiva un po' meno sembra un po' meno certa di una volta ma anche un'idea secondo me che ispira o ispirava anche i popoli i novegesi britannici sfizzeri siamo cittadini europei non soltanto cittadini delle nostre nazioni e seguendo tanto per riallacciarmi con la discussione della dottoressa Priecz anche i paesi balcani sono anche europei quindi secondo me questa è una cosa da ricordare che i popoli siamo europei ma per rispondere diciamo alle quattro domande che sono eccellenti allora perché non è contemplato una riapertura un'apertura del governo britannico nei confronti dell'unione europea un futuro governo laborista è una questione di politica cioè l'Italia per certi versi è il paese più politicizzato al mondo e bisogna capire quello che è possibile e quello che non è possibile se tu hai come ha la Gran Bretagna attualmente un nocciolo duro dell'elettorato è difficile quantificare quanti sono ma secondo alcuni sondaggi sono un terzo dell'elettorato che voterebbe per la Brexit in qualsiasi situazione qualsiasi partito politico o governo deve tenere conto di questa minoranza ma minoranza forte e minoranza fortemente ideologizzata su questo argomento nessun governo britannico potrebbe riaprire la discussione le discussioni e la possibilità e le trattative con l'Unione Europea senza riaprire la questione della Brexit e questo è stato talmente forte dal punto di vista questo è quello che stavo dicendo nel mio intervento è stato talmente ha creato un divario talmente forte all'interno della nostra democrazia che nessun politico di buon senso vuole riaprire la questione è tutto qua e chiaramente non c'è una maggioranza a favore dell'ingresso non c'è una maggioranza non c'è ormai una maggioranza di Brexit questo non esiste più forse in un certo senso non è neanche esistito mai se non un giorno a giugno del 2016 però che c'è un gruppo fortemente un noccello duro dell'elettorato fortemente ideologizzato è un dato di fatto di cui i politici devono tenere conto ed è per questo motivo che stavo dicendo che l'unica prospettiva sono mi auguro due governi di un governo centrista moderato che abbiamo evitato il peggio abbiamo evitato il divorzio abbiamo evitato un divorzio clamoroso bisogna essere come adulti e fare una separazione in cui riusciamo a capire che ci sono ancora punti in comune che un divorzio sarebbe negativo per entrambi i partner e che in qualche modo cercare di avvicinarsi di più perché è l'unica soluzione che rimasta e poi chissà come dicevo Harold Wilson politico britannico una settimana è già lungo in politica due decenni è lunghissimo chi può prevedere le cose ma sicuramente io personalmente non prevedo grossi cambiamenti nella linea di governo britannico ma nemmeno nella politica della comunità europea con tutti i problemi che ci sono in Europa vogliamo veramente una aprire la gran britannia la gran britannia dove sicuramente sarà creerà tensione e chi ha bisogno di più tensione nella politica e questo è il problema e quindi mi spiace per chi mi ha fatto questa domanda che forse sarebbe un europeo italiano patriottico che vorrebbe avere la gran britannia che fa parte della comunità anche io sono della stessa parere ma non penso sia una prospettiva realistica seconda domanda i giornali i tabloid la stampa guardate io ho girato per l'italia fra 2016 e 2022 a fare conferenze sulla brexit parlando appunto e c'è sempre stato un capitolo intero sull'influenza dei tabloid e non c'è niente da fare qui hanno avuto un peso enorme perché i giornali ma che ormai sono anche siti web un giornale come The Daily Mail è uno dei siti web più visitati al mondo cioè stiamo parlando di uno delle 10 20 siti web più seguiti in tutto il mondo e questi questi giornali sono quelli che sono stati in qualche modo fra virgolette catturati da la destra nazionalista i loro giornalisti si sono formati in certi ambienti io con il lavoro accademico che ho fatto più volte con il professor Pasquinucci che è tra gli organizzatori di questo evento ho scritto ho scritto alcuni saggi sull'influenza di un intellettuale politico come Ino Powell un nazionista conservatore degli anni 60-70 soprattutto ha avuto un'influenza enorme sono persone che hanno e i giornali inglesi ormai alcuni giornali inglesi sono ormai catturati fra virgolette con queste ideologie ma questo è un altro motivo per il quale la Gran Bretagna non può pretendere un governo di chi è stava un governo lavorista non potrebbe pretendere di aprire subito una nuova trattativa con l'Europa perché subito avrebbe la stampa contro è un dato di fatto il direttore del Daily Mail è un uomo che si chiama Paul Dacre e il signor Dacre è forse è stato il più importante personaggio politico nella Gran Bretagna negli ultimi tre decenni che non è stato primo ministro e questo non è un'esagerazione e le sue idee sono queste e quindi per rispondere alla persona che mi ha fatto la domanda la stampa pesa e come? Rapporti con gli scozzesi questo è un ottimo esempio di come infatti stavo dicendo che le conseguenze diciamo economiche sono state meno pesanti del previsto direi che anche i rapporti con la Scozia sono stati meno disastrosi dal previsto anche perché il nazionalismo scozzese che ha il potere a Edimburgo è stato diciamo travolto da vari scandali innanzitutto sta perdendo sostegno nelle elezioni del 2015 ha preso 56 su 59 seggi nella Scozia a livello nazionale nelle elezioni per il Parlamento a Westminster sicuramente nelle prossime elezioni prenderà la metà ha avuto un calo nella simpatia dell'elettorato scozzese nell'elettorato scozzese anche perché gli scozzesi sono ben consapevoli dei rischi dell'indipendenza perché la Scozia è sostenuta fortemente dallo Stato britannico in fondo da chi paga le tasse in Inghilterra e se la Scozia dovesse lasciare l'Unione britannica allora non sarebbe facile entrare nell'Unione europea non sarebbe facile cambierebbe moltissimo l'economia politica della Scozia di conseguenza diciamo tutti coloro che dicevano ecco è anche la fine del Regno Unito non è soltanto la fine del rapporto del Regno Unito con l'Europa ma la fine del Regno Unito secondo me hanno esagerato ciò non cambia che la Scozia rimane e il partito scozzese rimane tuttora il partito più europeista in Gran Bretagna poi l'ultima domanda e questo è senza nombra di dubbio l'elefante nella stanza i rapporti con gli Stati Uniti perché io stavo dicendo tutto con una stavo facendo delle previsioni con una sicurezza che forse al cuore non mi sento di avere i rapporti con gli Stati Uniti sono fondamentali i rapporti sono fondamentali con la Gran Bretagna per la Gran Bretagna che noi siamo convinti di aver avuto sempre una specie di rapporto privilegiato con gli Stati Uniti questo è un'esagerazione come tante cose nella politica britannica esageriamo ma è anche reale non è un'illusione però i rapporti sono sicuramente non buoni attualmente tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti secondo me tanti Brexit hanno dato per scontato che lasciando l'Unione Europea avremmo creato in qualche modo una specie di anglosfera si diceva alcuni intellettuali di destra e che la Gran Bretagna sarebbe diventata appunto Global Britain lavorando in partnership con gli Stati Uniti questo non è avvenuto né con Trump né con Biden che Biden tra l'altro essendo di origini irlandese è sicuramente non è molto propenso ad un forte rapporto con la Gran Bretagna e di conseguenza di conseguenza diciamo il progetto di costruire un rapporto sempre più speciale con gli Stati Uniti un rapporto transatlantico in cui la Gran Bretagna attraverso i contatti con la Canada e con gli Stati Uniti prendeva una posizione di rilievo nella politica internazionale quasi in competizione con l'Unione Europea beh questa idea è stata l'ennesima fantasia dei Brexit infatti forse addirittura è stata la fantasia più grande dei Brexit molto più delle loro idee economiche o le loro idee diciamo sulla sovranità del Parlamento nazionale che sono largamente divisi fra l'altro è stata proprio la politica diciamo professore mi scusi abbiamo perso la telecamera non la vediamo più ah si scusi no no scusami no no e poi sto parlando troppo a lungo e chiedo scusa se hai parlato troppo a lungo su questo argomento ma la questione è importantissima perché se poi c'è la rottura con gli Stati Uniti se dovesse eletto Trump se Trump dovesse mantenere la sua parola su tante questioni allora a quel punto io non vedo quali sarebbero le alternative ad un rapporto molto più stretto tra la Gran Bretagna e l'Europa perché avremo tutti e due la necessità di rafforzarci e questo potrebbe veramente cambiare le carte in gioco certo grazie chiarissimo io avrei altre due domande per la dottoressa Pritch che sono arrivate in chat e il tempo sta scadendo però volevo dare insomma una risposta a questi due interrogativi quanto influisce oggi Cipro sul processo di adesione e ingresso della Turchia in Europa e come sarà possibile un po' di questioni spinose e come sarà possibile procedere nel percorso di adesione all'Unione Europea se Spagna e altri quattro membri dell'Unione Europea non riconoscono il Kosovo a livello internazionale dottoressa lascio a lei grazie due domandine semplici semplici però sono questioni che mi aspettavo di ricevere perché sono politicamente estremamente rilevanti purtroppo avrei voluto fare una carrellata a paesi ma mi sono dovuta limitare per dire un paio di parole sulla Turchia la Turchia continua a rimanere uno dei nostri dieci paesi continuiamo fa parte del pacchetto dell'allargamento quindi ogni anno ogni anno ne studiamo la situazione però c'è da dire che consideriamo i negoziati con la Turchia per adesso fermi insomma frozen a volte viene usata come parola da quando il Consiglio europeo è andato in questa direzione nel 2018 perché c'è stato si notava un progressivo allontanamento della Turchia da quelli che sono i requirement per avanzare quindi per questo quello che vi dicevo prima i fundamentals rule of law libertà di stampa eccetera se un paese comincia ad allontanarsi da queste questioni i negoziati non avanzano anzi possono essere fermati quello che però sta succedendo sempre per questo nuovo impeto che è stato creato dai fatti terribili dell'aggressione in Ucraina anche con la Turchia c'è un tentativo di ripensare le nostre relazioni la Turchia comunque rimane un partner chiave su tanti su tanti temi quindi l'anno scorso è stato il consiglio ha chiesto alle CRVP quindi all'altro rappresentante della politica estera Giuseppe Borrell quello che è venuto dopo la nostra Mogherini ecco e alla commissione di preparare un report su come si potrebbero rilanciare i nostri rapporti con la Turchia quindi adesso sta al Consiglio Europeo che ha ricevuto questo rapporto a proporre delle nuove modi per un po' rilanciare le relazioni però questo è per dare un'idea sì quindi le questioni politiche come un paese affronta questioni anche internazionali sono sì fanno parte poi influiscono sul processo di allargamento e sulla sulla questione del sulla questione del Kosovo naturalmente il fatto che ci sono degli stati membri che non che non che non lo riconoscono non nascondiamoci dietro dietro il palmo della mano sicuramente è una questione determinante per il futuro europeo di del Kosovo quindi è sicuramente una questione estremamente estremamente delicata estremamente sensibile e naturalmente tutto quello che è relazioni Belgrado Pristina è coperto dal famoso dialogo Belgrado Pristina che è seguito dallo USR Gleicach e che quindi lo chiamiamo lo chiamiamo un dialogue proprio perché è un tentativo di portare avanti i negoziati tra questi due paesi che sono estremamente sono cose che leggiamo sui giornali quindi sono estremamente delicate e giusto un'ultima parola questo non è solo non riguarda solo il futuro del Kosovo riguarda anche il futuro europeo della Serbia quindi avanzare sul dialogo Pristina Belgrado e anche avanzare per entrambi i paesi quindi è una questione estremamente presente ripeto delicata con implicazioni che vanno beyond quei due stati perché identità storia interferenze estere insomma è un tema davvero ci sono studenti all'ascolto ci si possono scrivere tante tesi sopra però sicuramente appunto importante per determinante direi per entrambi i paesi grazie grazie molte è un tema come diceva che va oltre diciamo l'aspetto solo dell'allargamento dell'Unione Europea quindi va seguito sicuramente con interesse e quindi grazie per l'approfondimento io vorrei chiudere chiedendo una battuta al professor Gilbert sul stato dell'arte dei rapporti UK Irlanda questo mi ha accolto impreparato diciamo diciamo che una battuta due parole telegrafiche se c'è è stato veramente interessante come coloro che hanno voluto la Brexit hanno fatto la Brexit senza pensare alle conseguenze per l'Irlanda il che dice tutto su come certi ambienti nazionalisti britannici la destra nazionalista in Gran Bretagna non ha mai non ha mai preso in considerazione l'Irlanda come una parte del diciamo non del Regno Unito ma delle isole britanniche abbiamo avuto una storia come sa sicuramente difficile del rapporto tra l'Irlanda e la Gran Bretagna è un rapporto di odio e amore per molti versi nel corso dei secoli e nessuno ha tenuto conto delle conseguenze per i rapporti con l'Irlanda quando abbiamo fatto queste elezioni tutti i problemi che ci sono stati sono passati quasi inosservati durante il dibattito durante il referendum e di conseguenza questo non è telegrafico non è per niente noto bene ciò che è successo noto bene ciò che è successo c'è stato il tentativo di dare sostanza all'accordo fatto tra la Gran Bretagna e l'Irlanda e l'Unione Europea di trovare un compromesso e in fondo i rapporti sono uguali i problemi dell'Irlanda è uguale al rapporto in generale con il resto dell'Unione Europea non c'è altra soluzione ma tanti ufficiali che si sedano intorno a un tavolo e riescono a perfezionare il risultato perché anche lì avremmo avremmo potuto rischiare grosso in Irlanda sembra che non sia successo ma avremmo potuto rischiare grosso ecco grazie 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 professor Gilbert grazie a entrambi i relatori è stata veramente una sessione molto interessante che ci lascia con tanti spunti da tante tante questioni ancora aperte che segneranno il nostro futuro il futuro dell'Unione Europea quindi veramente grazie perché ci avete aiutato un po' a chiarire questo quadro che non è facile nemmeno per noi che di Unione Europea insomma ne parliamo tutti i giorni vi ringrazio molto e io ringrazio tutti i partecipanti che ci hanno seguito e li invito al prossimo appuntamento che sarà appunto giovedì prossimo il 21 di marzo parleremo di allarme e siccità l'azione dell'UE contro la crisi idrica sempre dalle 10 alle 11.30 è il primo webinar del terzo modulo che appunto parlerà più approfonditamente della doppia transizione verde digitale e colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i colleghi degli Europe Direct che rendono possibile portano avanti questo progetto di Lezioni d'Europa e infine un grazie al collega Gianluca Finito che ci supporta per il buon funzionamento della piattaforma grazie ancora a tutti professor Gilbert grazie professoressa Pritch grazie per la vostra collaborazione e arrivederci a presto e buon lavoro grazie grazie arrivederci a tutti buona giornata grazie 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 grazie